Sto per raccontarti una cosa che è sotto gli occhi di tutti, ma tu sei in grado di vederla? Ti amo, zucchino mio. Ti amo, correggetto mio. Lato destro e lato sinistro. A cosa corrispondono nel nostro immaginario e come vengono usati per condizionarti? Mettere vuole la EQ? Sul mio canale puoi trovare parecchia roba interessante, quindi iscriviti e attiva la campanellina. Questo tuttavia è il primo video che faccio sui condizionamenti. Quel castello ha un'aria molto sinistra. Non svoltare tre volte a sinistra. Portamante. Sabrina? Ciao, senti, c'è un problema, ho avuto un sinistro. Sabrina è la mia assicuratrice. Dell'ufficio sinistri! Perché mai questo povero lato sinistro è così maltrattato dalla nostra cultura? Pensa che fino a un po' di anni fa ai bambini mancini veniva imposto l'uso della mano destra. Perché la mancina? È la mano del diavolo! A me paiono entrambe mie! Ma quale diavolo? Alla parte sinistra viene di solito attribuito un senso di trasgressione del codificato. E come tutte le contrapposizioni il lato sinistro da solo non vive, ma vive come parte di un'unità che comprende lato destro e lato sinistro. Al lato destro sono attribuiti significati positivi. Il lato destro è... Sole, vita, attività, forza, potere, fortuna. Al lato sinistro sono attribuiti significati infausti. Il lato sinistro è... Luna, morti, passività, debolezza, sottomissioni, sfortuna. Al lato destro è associata l'alba, l'inizio, l'avvenire. Al lato sinistro è associato il tramonto, la fine, il passato. L'aggettivo destro deriva dal latino dexter e significa propizio. L'aggettivo sinistro deriva anch'esso dal latino sinister, ma significa infausti. Perché io non ho studiato latino, questa me l'hanno detta. Considerate che per i romani era di così cattivo auspicio che un ospite entrasse in casa col piede sinistro che c'era un servo addetto addirittura ad evitare che questo accadesse. Tieniti forte, donna, perché nella nostra cultura al maschio è associato il lato destro e alla femmina è associato il lato sinistro. Questo bada non significa che io sia d'accordo. Ambasciator non porta pena. Secondo la religione cristiana, la donna è complementare all'uomo e nasce dalla sua costola. La donna è la parte negativa dell'umanità. Eva è tentata dal serpente e infrange il patto con Dio portandosi dietro il povero Adamo. Che si sa, è uno stinco di santo e è solito sciacquarsi le ascelle con l'acqua santa. Noi non ci laviamo le ascelle nella pozza delle lacrime sacre. Per i musulmani non mi pare, vada molto meglio. Non ho idea del motivo per il quale ad un certo punto della storia colei che dà la vita inizia a venire considerata come parte mancina. Dicono, facciamo come le mantidi magari, ma un equilibrio ci sarà. Io non ho problemi col mio papà. Forse perché mamma gli staccò la testa prima che nascessi. Non lo so. Ora ragazzi mi direte che ormai questa cosa non esiste più e che ormai la donna è uscita da quella condizione disfavorita. Sicure? 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 Per gli invitati al matrimonio l'uomo è sulla destra, la donna sulla sinistra. Per lo sposo la donna è sulla sinistra. Vatti a ripassare l'inizio del video quando si parlava di mano del diavolo. La posizione canonica nel letto matrimoniale è identica. L'uomo a destra e proprio a fianco del lato sinistro la sua compagna. Quindi lui è portato a considerare lei come corrispondente al suo lato sinistro. Parallelamente l'inconscio della donna è guidato a considerare l'uomo in corrispondenza del proprio braccio favorito. Il destro. Tutte cose vecchie, tutte cose appartenenti al passato. Sicura? Accendiamo la tv e guarda che questa cosa non termina mica domenica. Nutella spot 2020 sarà un caso. Due maschi a destra, due femmine a sinistra. Molino bianco, spot 2020, addirittura due occasioni. Nemmeno i bambini si salvano. Ora ragazze mi direte che gli spot sono roba vecchia, con concezione antica. Non sono molto d'accordo. Innanzitutto se prendo un qualsiasi spot è già meglio di un film italiano. Almeno si riescono a capire le parole. Ma già che ne abbiamo parlato, vediamo il cinema. Cosa propone? Ti amo, zucchino mio. Ti amo, correggetto mio. Hai appena visto la scena iniziale di Pulp Fiction. E francamente non mi sento di affermare che Quentin Tarantino fosse un neocatecumeno nel 93-94. Questo invece era Avengers Endgame, un film direi abbastanza noto del 2019. We're going now? Wow, you look amazing, Mrs. Hartford. Oh, thank you. Eyes Wide Shut. Nell'unico momento statico la situazione è tre donne sul lato sinistro e un uomo sul lato destro. Faccio notare ancora un paio di cosette. Quando in un film è necessario mettere un personaggio in una luce non proprio positiva, lo si mette sul lato sinistro. Jack Torrance, cioè Jack Nicholson, è ovviamente un maschio, ma in questo specifico film viene messo sul lato sinistro rispetto alla moglie. Non solo. In una scena meravigliosamente simmetrica, Jack è spostato leggermente a sinistra. Non è un errore di Kubrick. Se hai visto Shining, hai già capito il perché. e dei due papi. Che mi dici? Sono chiaramente due maschi. Due papi. Chi accidenti metto a destra? Secondo te, a quale dei due papi il regista attribuisce un significato positivo? A Ratzinger oppure a Bergoglio? E resta incollato, incollata fino alla fine del video perché su questo film ho un'altra cosetta da dirvi. Dona un like e iscriviti al canale. Ma sarà meglio a destra o a sinistra? Dona un like e iscriviti al canale. E se hai qualche dubbio o semplicemente non sei d'accordo, la discussione nei commenti è aperta. I due papi è un film del 2020 diretto da Fernando Ferrera Meirelles, non so come si pronunci. È un regista brasiliano, quindi sudamericano. Secondo te, quale papa lui preferisce?